Buonasera Stefano, volevo fare tre domande a tutti e due su Giù, a te volevo chiedere come si difende su Giù e poi visto che è la... Su Mbappé, come si difende su Mbappé e poi se per la tua 200esima partita al Milan sogni come regalo una notte di Leao all'Ambappé a livello realizzativo e per Olivier volevo chiedere com'è visto da vicino, visto che ci giochi nazionale Mbappé, cos'ha di diverso da tutti gli altri? Io credo che Mbappé abbia una capacità di movimento, seglie sempre il tempo giusto, poi lo fa con una velocità incredibile e con una qualità tecnica importante per finire l'azione, quindi è chiaro che chi si troverà nella zona dove lavora Mbappé è chiaro che deve essere molto attento, preparato, capire, non a reagire ma a provare ad anticipare il suo movimento. E ripeto, più sporcheremo i palloni nella sua direzione, più avremo magari qualche possibilità per cercare di limitarlo. Io spero che possa fare gol Olivier, possa fare gol chiunque dei miei giocatori, Leao darà il massimo per cercare di essere un giocatore determinante nella nostra fase offensiva, come farà Olivier, come farà Christian, come dovranno fare i nostri centrocampisti, come dovranno fare come squadra. Quando abbiamo la palla dovremmo essere sempre tutti pronti per cercare di essere molto pericolosi, per cercare di essere molto propositivi, per dare delle soluzioni buone in fase di costruzione, per essere pericolosi in fase realizzativa. È quello che dobbiamo fare tutti insieme. Sì, Kylian lo conosco molto bene adesso. Giochiamo da quasi sei anni insieme con la nazionale. Tutti sanno il suo talento escezionale. Sappiamo che lui è uno dei migliori giocatori del mondo e quindi dobbiamo essere concentrati su di lui, ma non solo perché loro hanno una squadra anche collettivamente molto forte. Sì, niente di più. Ok, area qua, davanti. Grazie. Ciao Stefano. Parzialmente hai risposto dicendo che si deve giocare di squadra. Hai fatto i complimenti a Luis Enrique perché ha trasformato il gioco di singoli di squadra. I tuoi giocatori giocano tutti dentro quello che gli chiedi tu, visto le polemiche che ci sono state recentemente? Sottolineato Leao. Andiamo di là. Buongiorno. 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 Il è un po' più agressivo, un po' più agressivo, tueur nella superficie, per concrétire la nostra dominazione. A Dortmund, abbiamo avuto l'occasione anche nei ultimi instanti di fare, non l'abbiamo fatto. Quindi, bisogna farciare questa frustrazione, magari non aver preso le point, per ricordare che a questo livello, ogni dettaglio e la differenza si fa in le due superficie. Quindi, è a noi di corrigerci, di essere più agressivi davanti al but, di determinare, efficaci, per aiutare l'equipe a raggiungere. Allora, abbiamo Vitiello per le gatte e lungo. Così, se avete Vitiello, qua. Alzate la mano, così la aiutate. Ok, grazie. Sì, salve mister. Volevo solamente chiederle, come mai non sono venuti a Parigi i vari OCA4? Ovviamente, l'off-2-chiclo, lo sappiamo, si sono recuperabili per Napoli. Ed è un problema per l'attacco, perché poi rimangono davvero pochissime soluzioni lì davanti, anche in panchina. Non sono venuti perché non sono disponibili per giocare. OCA4 sicuramente dovrebbe essere recuperato per Napoli. Rups sta un po' meglio, ma ancora non so se sarà recuperato per Napoli. Sì, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare certe zone. E poi possiamo anche cambiare qualcosina, anche a livello di posizione, se dovessimo cambiare qualche giocatore. Grazie. Una domanda a Stefano e a Olivier. Stefano, esiste un mal d'attacco? E nel caso, se esiste? Come si cura? Dobbiamo segnare di più. Questo sicuramente per quello che stiamo riuscendo a creare, soprattutto in Champions. E adesso dobbiamo essere concentrati a cercare di concretizzare di più quello che riusciremo a creare. Questo è sicuramente il nostro obiettivo, come ha detto Olli, è il nostro focus. E quindi sfruttare al meglio la minima o la prima o la seconda occasione che ci può capitare. Perché poi si gioca ad alto livello e certe occasioni devi prenderle quando riesci a crearle o quando ti capitano anche per qualche errore degli avversari. Olivier, io leggo i siti francesi. Giroud dévoile le plan anti-Mbappé. Olivier Giroud prévient Kylian Mbappé. Il collega ha chiesto ancora. Ma scusa, non è Mbappé che deve dire ai suoi colleghi come si ferma il buteur numero uno della nazionale francese? Ai, ai. No, 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 ho niente da aggiungere su Kylian. Sappiamo tutti le sue qualità. Sì, le mie anche, ma non mi piace parlare di me. Io voglio sempre mettere la squadra davanti e sono un giocatore di squadra, quindi quando faccio bene è anche perché la squadra mi aiuta a fare il migliore. E quindi voglio solo parlare della squadra, della mia squadra. Sono orgoglioso di questo Milan, anche se non abbiamo preso i punti che dovevamo, potevamo prendere. Oggi sappiamo che queste due confrontazioni saranno toste, ma è importante per noi per sperare una qualificazione per la Sixteen. Quindi, sì, non mi conosci bene perché non mi piace parlare di me. Quindi io parlo di Kylian e i miei compagni e basta. Allora, siamo qua. Volevo fare due domande rapidissime. Allora, la prima mi leggo al discorso dell'attacco. Abbiamo visto nell'ultimo partito, o perlomeno io magari sbaglio, c'è che le Awe Pulisic cercano spesso anche la soluzione sul secondo palo. Non so se è una situazione di gioco su quale state insistendo e se gli chiede di calciare di più importa perché abbiamo visto le statistiche sono un po' più basse rispetto agli altri esterni top della Serie A. E poi le volevo chiedere... Ho capito, le Awe, dietro? Le Awe e Pulisic, se devono calciare più in porta. Abbiamo visto che in ultima partita cercano sempre la soluzione a cercare l'altro esterno sul secondo palo. O perlomeno l'ho vista, io magari mi sbaglio. E poi le volevo chiedere anche in fondo, sarà la prima volta anche contro Donnarumma da avversario? Che emozioni ha in questa vigilia, se l'ha sentito in questi giorni? Grazie. Certo che le Awe e Pulisic si devono cercare di più la porta. Il problema è quando non abbiamo un numero sufficiente di giocatori vicino alle Awe e Pulisic che permette agli avversari di raddoppiare. Se le Awe e Pulisic vengono raddoppiati per loro diventa difficile tirare in porta e quindi diventa più facile invece scaricare o crossare in porta. Credo che nel primo tempo in parità numerica le posizioni nostre mezzarie sono state troppo basse e hanno permesso da Juve costantemente i raddoppi sui nostri esterni. Quelle sono state le difficoltà che abbiamo incontrato. Ma quella è un'altra storia. Domani ci sarà una partita completamente diversa, completamente diversa per l'impostazione dei nostri avversari, per il ritmo della gara, per la qualità che dovremmo mettere in campo. E quindi adesso concentriamoci sulla partita di domani. L'altra? Gigio l'ho visto quando eravamo venuti con la Milanella con la Nazionale. L'ho abbracciato. Ogni tanto ci messaggiamo. È stato un ragazzo che nei due anni che ha lavorato con noi ha dato il massimo fino all'ultimo giorno. Quindi lo saluteremo domani. L'equipe, grazie. In fondo. Buongiorno, Giovanni Castelli, la chaîne L'Equipe. Una question per il coach. Newcastle ha fatto un molto grande match face a Paris Saint-Germain a Sam James Park. Ils hanno stato molto aggressivi. In che modo questo match dei McPies vous serve di modello per affronter il PSG demain? Grazie. Sì, 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 no. Chiaramente l'ho guardata. Onestamente penso che se si dovesse rigiocare la stessa partita difficilmente riuscirebbe un risultato del genere per come ha giocato il PSG e per come ha giocato il Newcastle. Newcastle ha messo in campo tutte le sue qualità, ma anche il PSG ha messo in campo tutte le sue qualità. Il PSG ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio anche abbastanza clamoroso. Poi le partite e il calcio è veramente imprevedibile. Però è certo che l'abbiamo guardato e è certo che abbiamo preso anche degli spunti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Grazie.